Numeri in crescita anche in Abruzzo raccontano di un covid che guadagna terreno sul fronte dei contagi e anche su quello dei ricoveri ospedalieri. Di contro, nei centri vaccinali non si assiste più a lunghe code di gente in attesa di ricevere la propria dose di anticorpi preventiva, segno certamente del fatto che in molti si sono immunizzati direttamente per contagio, facendo scendere drasticamente il numero della platea vaccinabile. Ma per molti l'immunizzazione resta una priorità assoluta. Fragili anziani, tra le categorie più a rischio, non dovrebbero infatti procrastinare la vaccinazione per non esporsi a rischi maggiori in caso di contagio, come spiega il Tg8 Esther Vita Colonna, dottoressa del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti e professoressa di nutrizione clinica presso l'Università d'Annunzio. Il concetto di fragilità è un concetto molto ampio e molto relativo, che si riferisce all'età anagrafica, quindi i soggetti in età geriatrica, ma anche i soggetti che hanno sovrappeso, obesità, ipertensione arteriosa, diabete, malattie croniche respiratorie, tutte quelle patologie che è stato dimostrato nel corso purtroppo di questa dolorosissima pandemia, essere correlate a un esito sfavorevole della malattia stessa. Persone anziane hanno necessità di essere vaccinate per il Covid, ma anche di avere la somministrazione del vaccino anti-influenzale. Noi dobbiamo riflettere su una serie di aspetti. Per esempio, dovremmo prepararci all'invecchiamento cosiddetto di successo sin da quando noi abbiamo un'età non propriamente geriatrica. Sappiamo che adesso c'è stata anche una rivisitazione della definizione di soggetti geriatrici o dell'anziano. Si parla addirittura di giovani anziani perché ci sono degli ultra 65 anni che sono molto più performanti di giovani con patologie croniche. Quindi il concetto di fragilità va correlato a come si costruisce la salute nel corso della vita. In Abruzzo noi abbiamo una popolazione di centenari. Noi dobbiamo preservare, ovviamente, perché comunque l'allungamento della vita presuppone anche una maggiore fragilità. Allungamento della vita però possibilmente, auspicabilmente, libera di patologie il più possibile per quello che è prevenibile. Un corretto stile di vita che passi attraverso la pratica dello sport e una sana alimentazione è alla base della prevenzione e della preparazione a un invecchiamento di successo che protegge da ulteriori rischi anche in caso di covid. La prevenzione nei confronti dei più anziani e quindi dei più fragili passa anche attraverso i giovani? Certo, un ruolo fondamentale è quello dei giovani che devono tutelare i nonni, i genitori. Quindi i giovani devono preservarsi per preservare i loro nonni e nel dubbio devono utilizzare quelle norme di distanziamento e quindi di auto isolamento o comunque di non frequentazione di chi dall'infezione potrebbe avere delle gravissime conseguenze.